Francesco Grassi, buongiorno. Buongiorno e un caro saluto a tutti. E benvenuto davvero qui nel nostro piccolo posto delle parole per farci incontrare il tema che sarà l'oggetto dell'incontro al CICAP Festa di Padova sabato 14 ottobre alle ore 12. La domanda è cosa cerchi nel grano? Ma prima voglio ricordare che Francesco Grassi, ingegnere elettronico, studioso, investigatore di fenomeni misteriosi, socio del CICAP, oltre a essere artista, cycle maker, chitarrista jazz, stanno bene queste cose insieme, è vero? Artista, cycle maker, chitarrista jazz, quali sono i pezzi che più suoni? I pezzi che più suono? Con il nostro quintetto jazz facciamo un po' di standard, quindi anche footprints per dire, di Wayne Shorter, ma anche cose più moderne, insomma, musica che spazia dagli anni 30 fino al moderno jazz. E tutto questo ha certamente anche a che fare con la scienza, perché la scienza non è una cosa che vive là nel suo Santa Santoro, ma la scienza vive il respiro di ogni giorno, respira anche di musica e di altre cose, deve nutrirsi di altre cose e viceversa. E a Padova Francesco Grassi racconterà dei famosissimi cerchi del grano, chi è che non è rimasto affascinato dalle fotografie, come adesso ogni tanto circolano i vari spazi social, dei famosi cerchi nel grano. E questo fenomeno è un fenomeno che dice lunga su quanto noi riusciamo a bere di ogni informazione, Francesco Grassi, vero? Sì, sì, i cerchi nel grano sono un fenomeno veramente, per me che l'ho indagato, l'esplorato a 360 gradi, veramente incredibile, perché io alla fine degli anni, quindi 1999, più o meno 2000, ho iniziato questa avventura cercando di capire che cosa ci fosse dietro questo mistero. Appaiono queste opere, semplici cerchi nei primi anni 80, e poi questi cerchi appunto nel grano in realtà diventano delle forme molto più grandi, misteriose, complesse, impossibili da fare, si dice. E quindi questo mistero, insomma come CICAP noi esploriamo i misteri per raccontare la scienza, avendo un'impostazione razionale scientifica, insomma ho cercato di capire. Sono andato nel 2004 in Inghilterra, ho imparato l'arte dai circle maker inglesi, perché questa storia nasce in Inghilterra, in particolare, lo svegliamo subito, nasce come una burla creata nei primi anni 80 da due signori che avevano proprio l'intenzione di ingannare o comunque creare un cerchio per far sì che le persone pensassero all'atterraggio di un'astronave aliena. Quindi il binomio fra UFO, nel senso improprio di astronave aliena e alieni, quindi con queste forme impresse nel grano, ha subito, fa furore, insomma prende piede, questo mistero mente. E quindi nel 2004 ho fatto questo approfondimento, ho imparato l'arte, l'ho portata in Italia e ho creato, a partire dal 2005, in particolare, diverse formazioni e opere d'arte, perché poi alla fine è anche arte. È land art a tutti gli effetti. Esatto, si può inquadrare come land art. è un'arte particolare perché l'autore rimane ignoto di fatto, un po' come i graffiti, anche se dietro poi i graffiti che si fanno illegalmente, perché anche i cerchi in grano in Inghilterra funzionano così, si va in un campo, si fa l'opera e si va via. Però normalmente i circle maker, cioè quelli che fanno i cerchi, così come ci chiamiamo noi, che facciamo queste opere, non rivendicano le opere. E' da lì che nasce questa ambiguità fra è impossibile farle e poi le persone che vanno a vivere queste opere dall'interno durante il giorno, che vengono chiamate anche templi temporanei, queste persone espletano una sorta di religiosità e nasce tutta una mitologia nel corso del tempo. E questa mitologia è molto importante perché poi crea stupore, crea leggenda, ma soprattutto nella più parte di persone crea anche un fraintendimento, per cui vedendo queste cose si pensano veramente a degli alieni, a delle entità diverse da noi e si vive con questa idea. Quanti anni abbiamo vissuto e forse continuiamo a viverli, non un po' questa cosa, Francesco Grassi? Come dicevo, la storia è relativamente recente. Prima del 1980 non se n'è mai parlato, non esistevano queste cose, anche se poi hanno cercato di retrodatare, trovare nel folklore, ci sono delle cose che si possono ricondurre, ma io le ho analizzate e dimostro che così non è. i cerchi negri nascono nel 1980 con un primo articolo pubblicato nelle cronache dei quotidiani inglesi e da lì evolve la storia, quindi da semplici cerchi diventano poi pittogrammi, come vengono chiamati, opere che diventano poi importanti come dimensione. Anche io stesso faccio ormai opere che vanno intorno ai 100 metri di diametro, quindi parliamo di due campi da calcio, quindi opere molto importanti che per chi non conosce le tecniche, per chi non... E vogliamo entrare in questa cosa, Francesco Grassi, scusa se ti interrompo, perché è importante, interessante e curioso, no? Perché qui la parola artista entra in gioco, la famosa teoria della land art, o earth art, che nasce negli Stati Uniti più o meno negli anni 60, no? E molti di noi avranno visto la composizione di queste installazioni con le pietre e non solo. Francesco Grassi lavora con il grano, allora, si parte da una progettualità schizzata su un foglio di carta o da che cosa? Sì, allora, raccontiamo l'inizio, l'inizio è un cerchio nel grano, quindi per fare un cerchio serve sostanzialmente un raggio, è una figura molto semplice da disegnare col compasso, nel campo di grano si avvale di una rotella metrica, quindi di una distanza prestabilita con una rotella metrica che si svolge e si riavvolge e due persone, una fa da centro e l'altra con il metro tirato, quindi a raggio definito, gira intorno e crea una circonferenza con i piedi, quindi i nostri piedi sono di fatto la punta del compasso, le linee di costruzione vengono tracciate dai piedi. Poi c'è la parte di appiattimento perché la visione dall'alto di questa figura si ha perché alcune parti vengono appiattite e alcune parti rimangono in piedi, cioè il grano rimane in piedi e quindi questa differenza di altezza del grano crea questi chiari scuri che rendono dall'alto la figura e l'appiattimento viene fatto con una tavola di legno che si mette sotto il piede, viene tenuta con le mani tramite una corda e si procede ad appiattire. Adesso sto semplificando anche, non abbiamo supporto video, però il concetto è che si appiattisce. Diciamo che la parte di appiattimento è la parte meno intelligente, quando io creo un disegno prima faccio le linee di costruzione con la matita o col compasso e questi sono i piedi, quindi 30 cm di larghezza e poi appiattisco i settori che voglio appiattire, un po' come il gioco della settimana linguistica, una volta che sono disegnati i settori poi li annerisco in qualche modo. Questa è la base della storia, poi da lì nascono diverse tecniche che si possono inventare perché come tutte le arti il fine è quello di andare oltre le conoscenze che si hanno cercare di ottenere un effetto da quello che ho fatto anch'io inventando delle tecniche particolari e quindi esplorando queste cose che ovviamente per chi non conosce o chi vuole illudersi che queste cose arrivino dagli alieni o da qualche mondo che non è quello terrestre vengono ritenute impossibili ma in realtà si possono fare io lo spiego lo racconto e racconto nei minimi dettagli diverse tecniche molto anche avanzate. E adesso veniamo a parlare di un tema che forse è molto poco artistico ma il rapporto Francesco Grassi il rapporto tra l'artista e il proprietario del campo di grano come si stabilisce? Allora questo è uno dei punti chiave che fa che crea un po' il mistero perché la storia nasce appunto così i primi due signori Doug Bauer e Dave Shore i Doug and Dave i cosiddetti Doug and Dave quando iniziarono questa storia entravano nei campi senza ovviamente avvertire il proprietario facendo queste opere e così normalmente avviene in Inghilterra anche oggi cioè normalmente le opere sono illegali quindi un po' il fatto di se io dichiaro a posteriore di aver fatto un'opera illegale in realtà sto ammettendo di essere in difetto e quindi di aver agito in maniera legale un po' questo un po' il fatto che l'opera perde di interesse perché i cosiddetti believers cioè quelli che credono alla misteriosità quando sanno che un'opera è umana la escludono dai propri interessi un po' questi due aspetti fanno sì che l'autore non si dichiari cosa contraria a quello che ho fatto io perché con il CICAP noi cerchiamo di far capire che cosa sta al di là di quello che appare o di chi viene raccontato normalmente dai media quindi io dal 2011 ho fatto un esperimento ho creato un'opera ho raccolto nel corso di un anno tutta la leggenda e la mitologia che è nata sulla mia opera d'arte nel 2011 e la racconto poi dopo un anno ho raccontato questa storia e poi dal 2011 in avanti ogni volta che faccio un'opera dichiaro immediatamente di essere l'autore quindi sono un caso un po' anomalo è chiaro che io muovendomi nella legalità devo prendere accordi con il proprietario del campo quindi le mie sono tutte opere legali non ci sono anzi invitiamo per le persone che vogliano fare questa attività a chiedere il permesso del proprietario ma lo so che è una domanda terra terra Francesco Grassi però quando poi l'artista piega il grano quel grano lì poi si può utilizzare quando passa la metitrebo oppure va perso? Allora quando una volta appiattito diciamo se entrano solamente nel campo i circle maker normalmente le squadre dei circle maker non sono numerose cioè in 5 6 10 persone al massimo siano delle opere molto grandi contrariamente a quello che si possa pensare quindi se vengono fatte le opere e poi non ci entra più nessuno dati alla mano perché io parlo con i proprietari dei campi che ospitano le mie opere si recupera un buon 90 anche il 95% cioè in realtà si perde pochissimo il problema delle opere diciamo quelle non dichiarate che poi iniziano a entrare nelle formazioni migliaia migliaia di persone che calpestano e distruggono quindi il grano che è stato appiattito a quel punto sì che il grano viene perso e si perde diciamo dal punto di vista del proprietario del reddito per questo motivo i proprietari inglesi fin dall'inizio avendo capito che migliaia di persone poi visitavano queste opere hanno cominciato a utilizzare le cassette per la raccolta delle offerte le honesty box si chiamano in inglese e quindi immaginate migliaia di persone che entrano e che lasciano un pound due pound tre pound e in realtà siccome i campi inglesi che ospitano le opere sono veramente pochi in alcune zone molto particolari alcuni proprietari si sono sostanzialmente anche arricchiti con questa forma di pellegrinaggio quindi effettivamente se solo i circle maker fanno l'opera e vanno via non si perde praticamente niente se poi i pellegrini i croppis come vengono chiamati vanno a visitare le opere e le calpestano a quel punto l'effetto è dato dalle migliaia di persone cosa cerchi nel grano è il titolo dell'incontro di Francesco Grassi al CICAP Fest sabato 14 ottobre avremo ancora tante domande ma le lasciamo le lasciamo agli ascoltatori protagonisti di questo incontro al CICAP Fest perché è uno degli incontri sicuramente più curiosi ovviamente senza nulla toglie dagli altri ma in questo caso è veramente la curiosità è proprio tanta Francesco Grassi prima di salutarci qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? il libro che mi fa compagnia è in questo caso è il frutto di tutte queste mie esperienze si chiama cerchi nel grano tracce di intelligenza che racconta appunto tutto quello che ho indagato quindi indagini non sul campo ma anche soprattutto sul campo spiego esattamente tutto chi vuole sapere come si fanno perché si fanno la storia che cosa c'è dietro perché c'è ben altro dietro adesso è impossibile ovviamente raccontarlo in questa intervista è scritto tutto lì con documenti anche non pubblicati prima insomma è un libro in cui ho dato tutto ho cercato di trasmettere tutto la mia conoscenza a chi è interessato a capire di più di questo sistema di credenza e vedere anche magari la presenza di qualche UFO di alieni incontri ravvicinati del secondo tipo e troverete tutto nel libro cerchi nel grano tracce di intelligenza grazie davvero Francesco Grassi e buon lavoro grazie a voi grazie a voi